buongiorno oggi vi porto un book haul di libri usati che ho preso principalmente sul libraccio e alcuni recuperi che ho fatto grazie al mio gruppo di lettura qui a genova il primo sarà un video diviso in due parti perché ho fatto un ordine molto grosso sul libraccio e una parte mi deve ancora arrivare allora il primo libro l'ho recuperato appunto da una lettrice del mio gruppo non è appunto del libraccio quindi però è usato anche perché si vede non è assolutamente nuovo poi una vecchissima edizione ed è a volte ritornano di steven king si tratta di una raccolta di racconti sono 20 mi sembra racconti esatto in cui il tema principale se non ho capito male leggendo qui la trama dietro è l'utilizzo della tecnologia da parte dell'uomo e l'utilizzo indiscriminato della tecnologia tanto che poi le creazioni tecnologiche prendono il sopravvento un po' come avviene in tanti libri di fantascienza e da lì si scatena un incubo come solo steven king lo sa raccontare questa è la trama non so se è un filo conduttore di più racconti o se è la trama comunque riassunta di un racconto solo da questo libro sono stati tratti diversi film ecco sì dai racconto dai racconti grano rosso sangue e brivido sono stati tratti due film e niente lo volevo leggere poi utilizzandolo come alternativa al libro perché in questo periodo io sto seguendo questo metodo leggo un libro diciamo principale e un libro secondario che leggo una volta che ho completato quelle che sono le mie pagine giornaliero giornaliere del libro principale e questo lo volevo utilizzare come libro secondario proprio per il fatto che essendo racconti uno può tranquillamente leggere un racconto due racconti e poi fermarsi poi abbiamo sempre di steven king la zona morta zona morta è un libro abbastanza famoso di king anche questo recuperato dall'amica elettrice e tratta di un di un uomo che torna si risveglia dopo quattro anni di coma e si ritrova con dei poteri particolari anche di questo esiste il film e che ho visto in parte non ho finito di vedere proprio per non rovinarmi la lettura del libro niente volevo aggiungere un altro titolo alla mia collezione di steven king e questa non è una lettura che sarà prioritaria nella mia tbr ma vedrò di portarla avanti quanto prima questo invece è un libro che è inaspettato perché sempre da questa signora che ringrazio moltissimo della gentilezza anche perché mi ha dato questi libri gratuitamente mi ha dato anche questo libro perché ne ha parlato al gruppo di lettura che seguo mensilmente e io lo avevo segnato come possibilmente interessante mentre a lei non era piaciuto particolarmente e quindi me l'ha voluto dare si tratta della storia di una bambina che ha un incidente automobilistico e finisce in coma questo non è spoiler perché succede comunque nelle prime pagine del libro il modo per salvare questa bambina dal coma secondo i medici è indurre il coma farmacologico nel fratellino che è un bambino invece sano e fare in modo che questo bambino vada a recuperare se così si può dire la sorellina quindi c'è questo elemento fantastico che alla mia amica lettrice non è piaciuto invece io trovo piuttosto intrigante ora poi bisognerà vedere come è stato reso e come è stato scritto il libro perché non conosco assolutamente l'autore però mi incuriosiva questo elemento un po' fantastico poi qui iniziano i libri presi sull'ibraccio che poi vi farò vedere quando mi arriveranno poi tutti vi farò una seconda parte sono felicissima di questi due perché ecco questi non li ho presi proprio sull'ibraccio bensì su Comprovendo Libri che è un altro sito per chi non lo sapesse di compravendita di libri usati da privati quindi tra privati allora si tratta di due libri questo è il prossimo che vi mostro di Isabella Santacroce che per me è un po' l'autrice del cuore sono libri davvero molto difficili da trovare perché sono ormai andati fuori catalogo e quando si trovano si trovano dei prezzi esorbitanti invece ho trovato due venditori che li vendevano a prezzi abbastanza contenuti questo 25 e il prossimo 30 euro e quindi ho deciso di acquistarle anche perché di Isabella Santacroce avevo letto diversi libri che ho amato e con l'unica eccezione di VM18 che era veramente un po' too much per i miei gusti il suo modo di scrivere è davvero poetico è davvero particolare e unico del suo genere questo io l'ho già iniziato a leggere vedete il segno se guardate l'ho iniziato questa sera anche se ero un po' stanca quindi comunque ho letto le prime 50 pagine parla di una ragazza Dorothy che ha tratti androgini e quindi viene spesso scambiata per un ragazzo anche perché lei gioca un po' con questa sua ambiguità e le piace vestirsi da maschio con vestiti anche molto particolari molto eleganti perché la zia presso cui vive fa la sarta e quindi le confeziona vestiti particolari eleganti si innamora di prima di una sua compagna di scuola quando sono ancora in quinta elementare e poi di una ragazza che conosce tramite l'amante della madre e niente poi vedremo come va avanti la storia perché non ho voluto neanche rovinarmi troppo la lettura leggendo la trama comunque sono sempre quelle di Isabella Santa Croce storie d'amore un po' particolari un po' potremmo dire devianti ma non con un'accezione negativa con un'accezione positiva anzi perché molto intense molto particolari sono sempre centrate sui sentimenti e sulla figura femminile il libro che io ho amato di più di Isabella Santa Croce Luminal è appunto la storia d'amore tra due ragazze di amore e di amicizia tra due ragazze che poi diventa una sorta di triangolo amoroso con un altro, con un ragazzo invece poi abbiamo Lulu della Croix che è sempre di Isabella Santa Croce e ha un'ambientazione più fantastica mentre Supernova è ambientato a Milano questo è ambientato nella città immaginare di Perfect City una città che come dice il nome stesso ha come regola quella di perseguire la perfezione e Lulu invece è una bambina che non è assolutamente perfetta anzi è piuttosto brutta fuori dai canoni estetici comunemente accettati e quindi viene diciamo emarginata all'interno di questa città anche qui non ho letto troppo la trama e voglio tenermi la sorpresa mentre mi sono lanciata su Isabella Santa Croce come libro secondario rispetto a quello che sto leggendo perché è piuttosto breve Lulu della Croix è invece un libro piuttosto grosso rispetto alla produzione media di Isabella Santa Croce che di solito scrive libri più corti e quindi penso che sarà una lettura che riserverò più avanti ora i libri invece proprio di Libraccio allora questo è un libro molto particolare di cui ho sentito parlare per caso una ragazza su Instagram e si tratta di una storia in cui abbiamo il conte Dracula trasformato in gatto credo qualcosa del genere ma comunque una storia piuttosto particolare e anche qui la trama non mi è molto chiara è ambientato a Venezia la sto leggendo in questo momento con voi ah no è una storia in cui troviamo una sorta di retelling fantasioso di Dracula e delle spose di Dracula ora ho voluto prendere questo libro perché una delle mie prossime letture sarà Le ragazze immortali che appunto è un retelling delle spose di Dracula e quindi ho voluto recuperare questo libro perché il classico Dracula è abbastanza impegnativo da leggere e quindi pensavo di schippare la storia che un po' tutti conosciamo guardando l'adattamento i diversi adattamenti cinematografici più rapidamente e quindi questo potrebbe essere una buona una buona pietra di paragone letteraria poi un libro che mi è stato consigliato da un amico e Zucchero amaro di Daniel Krauss un racconto agghiacciante di una notte di Halloween in cui dolcetto scherzetto diventa vivi o muori e questo è quello che c'è scritto dietro al libro Alla fine di Yellow Street c'è una discarica al centro della discarica c'è una casa fattiscente da lì Robbie ordisce un piano per vendicarsi di tutti i torti subiti nella vita arrabbiato e marginato abbandonato dai genitori ha messo insieme un piccolo esercito di tre ragazzi pronti ad aiutarlo nella crudele impresa nascondere la mette veleni e vetri sbriciolati nelle caramelle che quella sera per Halloween verranno distribuite ai bambini che busseranno alla porta quindi una sorta di horror se vogliamo un horror però estremamente realistico e crudo da quello che riesco a capire dalla trama vedremo anche qui perché l'autore se non sbaglio è famoso ecco sì per la forma dell'acqua libro che ho preso anche nell'ordine libraccio però non ho portato con me perché era un ordine abbastanza cospicuo e quindi l'ho diviso in due parti perché non è non mi è arrivata a casa ma in un altro in un altro indirizzo in un altro indirizzo quindi per trasportarlo meglio l'ho diviso in due parti poi ultimo libro che vi mostro Lizzi di Eva Wanjek credo si pronunci così si tratta di una storia biografica romanzata di Lizzi Seedle che è stata come si può anche vedere dalla copertina una delle muse forse la musa per eccellenza del movimento pre-Raffaelita nella Londra vittoriana quindi io leggo su un libro Londra vittoriana e è già mio se poi si parla anche di arte assolutamente è doppiamente apprezzato un libro tra l'altro che volevo inserire molto presto all'interno della TBR perché in questo momento sto leggendo come libro principale la autobiografia immaginaria di Lady Costant 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 scusate Costant Lloyd Wilde la moglie di Asuka Wilde quindi il periodo storico è quello e anche ci sono dei punti di contatto tra i coniugi Wilde e il movimento dei pre-Raffaeliti quindi assolutamente un libro che voglio leggere non appena avrò adesso ci sono un po' di libri che devo leggere per altri motivi devo leggere nei prossimi giorni in maniera abbastanza impellente ma poi quando mi si libererà la TBR questo è uno dei prossimi sicuramente ecco questa è la prima parte dell'ordine ci sarà poi una seconda parte che ho appunto lasciato all'altro indirizzo e un secondo pacco che mi sta ancora arrivando però oggi ho aggiunto due libri all'ordine e quindi è slittata poi ovviamente la data di consegna quindi non so quando però nel frattempo potrei fare un altro book haul con gli arrivi di settembre agosto settembre che sono anche lì abbastanza abbastanza cospicui e niente quindi ci risentiamo su questi schermi su questo canale e arrivederci spero di essere stata abbastanza esaustiva per quanto io appunto non legga molto le trame dei libri prima di leggerli e quindi non riesca bene ad escriverli prima di averli letti arrivederci e ciao a tutti grazie grazie